Siamo con il vice capitano del Gasperina, Leo Grillone. Leo, come è andata oggi la partita? Oggi è andata male, abbiamo provato a vincerla, però siamo andati subito sotto, siamo andati e poi un po' i nervi, un po' la stanchezza, un po' tutto, non ci siamo usciti. Però ancora è lunga, il campionato è lungo, il gruppo c'è, quindi siamo speranziosi. Niente, ti volevo dire, la squadra secondo te come l'hai vista oggi? No, l'ho vista bene, la verità, solo che in alcuni frangenti siamo sembrati un po' stanchi, il campo era un po' duro, però non voglio trovare alibi, comunque abbiamo fatto la nostra partita, va bene così, siamo sempre primi, bisogna ricordarlo questo, quindi ancora è lunga. L'assenza di Paparazzi, hai sentito oggi secondo te? Un giocatore che può fare la differenza? Guarda, Paparazzi è sempre un giocatore che fa differenza, quindi comunque, vuoi non vuoi un po' manca, però quelli che hanno giocato hanno superito bene, quindi va bene così. Siamo qui con Marco Gualtieri, giusto? Sì. Giocatore del Davoli che ha fatto il gol, diciamo vittoria. Cosa ne pensi di questa partita oggi? È stata una grande partita, abbiamo giocato al calcio tutti in 90 minuti, anche se ci sono state varie interruzioni, però noi non abbiamo perso la testa e abbiamo continuato a giocare, a fare il nostro calcio. Quindi il merito non è solo mio, del gol, ma di tutta la squadra, forza d'Apoli. Diciamo che Gasperina non ti meritava oggi, diciamo, il pareggio era giusto? Secondo me la partita è stata molto combattuta, però secondo me noi meritiamo di vincere al 90%, perché alla fine loro non hanno fatto nemmeno un tiro in porta, oppure poche occasioni. Noi invece abbiamo continuato ad attaccare e ripeto, non abbiamo mai perso la testa e abbiamo continuato a giocare a calcio. Grazie a tutti.